Ciao Pan! Mio fratello cade! Mio fratello cade sempre! Lasciami! Aspetta che lo mettiamo di qua la vestina! E poi facciamo tre! Lo facciamo tre e basta! E poi ritorniamo a casa! No! Si! No! Allora vengono qua! Ce l'ha nelle mani mio fratello! Paola ciao! Ciao! Maminine! Maminine! Io questa che ho parlato sono in Filippine quello che avevo parlato! Signora abbiamo sbagliato! Scusate!